La Lega Fano va all'attacco dei 5 Stelle dell'amministrazione Seri. Non è affatto piaciuto lo sgarbo istituzionale di conferire in Camera Caritatis con i consiglieri d'opposizione pentastellati probabilmente alla ricerca di un'apertura su stampo nazionale. Del resto, nell'ultimo consiglio comunale, l'esempio di Pesaro era stato riportato pubblicamente dalla stessa Marta Ruggeri. Perché Pesaro si e Fano no? Perché Matteo Ricci, come al suo solito bruciando a livello locale i tempi, dà una delega a una consigliera 5 Stelle mentre a Fano tutto tace? Del resto, in campagna elettorale, Massimo Seri più volte pubblicamente aveva elogiato la Ruggeri per correttezza e aplomb, mai sopra le righe, portatrice sana della politica sussurrata e mai urlata. Forse anche per questo che i due contendenti si sono voluti chiarire a quattro occhi, anzi forse più di quattro. Uno sgambetto istituzionale però che non sta affatto bene alla Lega, che ora si sente solo all'opposizione, che dice di portare avanti assieme a Fano città ideale. E' per questo che oggi è stata protocollata la richiesta alla Presidente del Consiglio Comunale di rimescolare le carte delle commissioni, dato che gli incarichi assegnati ai 5 Stelle per la Lega non sono più rappresentativi dell'opposizione, ma rappresentano un appoggio esterno alla maggioranza da parte dei 5 Stelle. Quali sono le mosse che non vi sono piaciute? Sieri che ha convocato in riunione ristretta i 5 Stelle da soli, Sieri con la sua parte politica senza tutta la stessa maggioranza, mi sembra che qualcuno all'interno ci sia qualche malumore, qualche scricchiolio, l'impressione esterna è questa. E dall'altra parte se tu fai una riunione dove tu chiami parte dell'opposizione non puoi lasciare l'altra parte fuori, dal punto di vista politico è una scorrettezza istituzionale. Però qui chiudo la questione e su questo non siamo intervenuti, però questa deriva ormai l'ha presa a livello nazionale, i 5 Stelle questa operazione la sta facendo un po' ovunque e anche fanno il frutto di questo trasformismo dei 5 Stelle. Quali sono le azioni immediate che metterete in campo per appunto contrastare questa deriva? Noi oggi abbiamo chiesto ufficialmente al Presidente del Consiglio di azzerare tutte le commissioni consigliari, perché la minoranza non è più rappresentata dal Movimento 5 Stelle, visto che fanno gli accordi sotto banco in cene segrete non ci sentiamo più rappresentati per lo meno per le vicepresidenze dei 5 Stelle, quindi oggi abbiamo chiesto di redefinire completamente le commissioni consigliari permanenti che abbiamo istituiti in Consiglio Comunale.